Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzacu E io sono Tazzona Oh, amico mio, sta arrivando Napoli Salernitana ed è arrivata anche la conferenza stampa di Mazzarri E che fai? Non la guardiamo? Ma posso dire che non mi aspettavo che l'avrebbero fatta considerando la scusa del ritiro Ma forse l'hanno dovuto perché con la derogata dai giocatori facevano poco una figura in merda, ci sta Vediamo cosa ha detto il buon Walter Buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno, buongiorno Mazzarri, bentrovato E' stata questa fin qui evidentemente una settimana particolare Le chiedo come sono stati questi giorni di ritiro La scelta condivisa Di stare insieme Il campo fuori Cosa le hanno consentito magari questi giorni? Che effetti ha avuto sulla squadra? Insomma se ci racconta un po' come sono andati Allora come ben sapete io sono uno che non è che dico già Io sono contento di aver fatto quello che abbiamo fatto in questa settimana di sicuro Hanno lavorato bene, siamo stati più insieme Si sono fatti cose che magari con meno tempo non si potevano fare Quindi l'ho accettato Hanno dormito insieme, hanno cucinato insieme, si sono abbracciati, si sono baciati Vabbè è nato di nuovo il rapporto intimo L'ho voluto con molta felicità perché come sapete io sono un allenatore che mi piace lavorare sul campo, preparare le partite Allora già ci capite dove arriverà questa conferenza Sarà una conferenza motivazionale Facendo allenamenti E da quando sono arrivato ce n'erano pochi giorni per fare queste cose Stando insieme anche in hotel magari si fa un filmato in più, si fa una cosa in più, si sta più qui al campo E credo ci abbia fatto bene E' chiaro che la prova poi A me chi lo credo che mi era fastidio In che senso credo? E' faticato o non è faticato? Credo che sia Come sempre ci capita a noi allenatori è la partita vera Se abbiamo lavorato bene penso e spero che domani vedremo un Napoli diverso, più brillante di quello che abbiamo visto Purtroppo nell'unica partita da quando ci sono io che è andata in un modo diverso Ora mi spiego meglio Ma c'è si spiega, stai calmo, non ti spiego Resta seduto, non ti alzare Le altre come vi avevo detto volta a volta Al di là che qualcuna si è persa, qualcuna si è vinta Però si vedeva una squadra che giocava a calcio, palla a terra Che faceva le cose che piacevano a me, la squadra più corta Vabbè Rem, sono perso in vittoria, giusto? Sono sconfitte Devo recuperarmela, scusate In alcuni casi non siamo stati fortunati a portare a casa il risultato Però di base, per esempio con l'ultimo col Monza Per me la squadra ha fatto bene, ci è mancato solo di far gol Tutto il resto avevo visto dei grossi miglioramenti Capite solo? Lo scopo del gioco è fare gol C'è mancato solo il gol Cosa che ha stonato è che a Torino effettivamente Probabilmente per colpa mia Perché col preparatore abbiamo fatto dei richiami Forse un po' più pesanti di quello che i ragazzi richiedevano Ho visto una squadra diversa Che lanciava la palla, che non giocava a calcio Ha giocato meno a calcio Ha fatto pochissime azioni Anche se pur Non siamo stati proprio fortunatissimi Nel meno in quella partita perché magari se andava in vantaggio Cosa? Abbiamo perso 3-0 Siamo stati fortunatissimi Comunque in Paris ce l'abbiamo fatto il richiamo Cioè questo richiamo fatto non faceva correre i ragazzi Dopo un minuto dell'inizio della partita L'Avo Pulisse a dire adesso Arda non mi trattengo su questa cosa Ma pure lui a dire La squadra ha giocato palla lunga Ma ci rendiamo conto Ma ci rendiamo conto che Non riescono Cioè questa è una scusa Che dai al giocatore Il giocatore che non ti fa quella corsa in più Perché? Perché hai fatto il richiamo Ma noi stiamo scherzando Ma non sta scritto a nessuna parte Cioè se tu sei un giocatore professionista Quella corsa in più la devi fare Punto E a capo Pur se stai stanco A gioca C'era capitata prima nell'occasione Magari non c'era nervosismo Si poteva svolgere in un altro modo Detto questo è chiaro che è una partita negativa Non mi è piaciuta Era diversa da tutte le altre Lo ripeto E sono fiducioso per domani Che i ragazzi possano giocare a calcio Come piace a noi E questa volta spero anche di fare risultato Sport Italia Salve mister Lui lo dice come se ci stesse concedendo qualcosa Cioè ma tu Come potevi non dire Quella non era una partita negativa Ma È di da sé che sia Scusate perché a volte Quando è arrivato qui Si è presentato come Nuo Mazzarri Ecco Le dico Non è Non ha pensato Ecco di Di tornare indietro Di fare il vecchio Mazzarri Io parlo da un punto di vista Tattico Dal temperamento lo conosciamo È sempre il solito Se ci ha ripensato E se potremmo vedere qualcosa Del vecchio Mazzarri Da ora in avanti Allora Qui bisogna Forse A volte quando si parla Bisogna essere più precise Pignoli nello specificare Cosa si intende dire Mazzarri Con l'esperienza di 23 anni di carriera Quando sono venuto Ma sto 23 Se la voca si è lotato Lui Ero già abbastanza formato Ma venivo da Da squadre E se lo fa a Napoli Ancora più divertente Perché 23 È un numero significativo Di serie A Tipo la Regina La Sampdoria Che ambivano A traguardi diversi Il Napoli Come piazza Al di là Che io l'ho trovata Al dodicesimo posto Eccetera eccetera Il Napoli È una piazza importante Cioè che Anche un allenatore Deve essere esperto Deve avere La forza di subire Le pressioni forti Eccetera eccetera Allenare il Napoli Allenare l'Inter Allenare il Mila La Juventus Si sa che sono piazze Dove ci sono aspettative diverse Questa è la cosa importante Ora Quando io ero rampante Giovane Eccetera Magari facevo degli sbagli Da un punto di vista Con voi Della comunicazione Potevo arrabbiarmi Di cose che ora Con l'esperienza Con la tranquillità Con la saggezza Penso di gestire meglio Questo era il senso Poi Se si va Sull'aspetto tecnico Tattico Io Se no non venivo Io ero Insomma Quando sono rimasto Fermo apposta Non ho voluto Allenare Dopo 21 anni Di carriera Mi sono voluto Un po' fermare Come fanno tutti gli allenatori Perché voi pensate Quando sono venuto a Napoli Avevo fatto 13 anni a dritto Finivo a giugno Cambiavo squadra E cominciavo con altri A un certo punto Ti devi fermare Perché anche noi Non siamo delle macchine Il calcio va avanti Hai bisogno di fermarti Di studiare Di guardare Cosa sta cambiando Se vuoi rimanere Un allenatore attuale Ecco quello che ho fatto Quando ho visto il Napoli Che poi È un posto Dove io ho anche Una parte di affetto E di cuore da sempre L'ho guardato ancora più Come dire Interessatamente Perché Facevo da fermo Il tifo per il Napoli Nel frattempo Mi piaceva tantissimo Come giocava il Napoli E il 4-3-3 Me lo sono studiato Sposato L'ho visto Come si difende Come si attacca Come si deve scappare Quando la palla A gioca aperto Mi sono fatto Una cultura Tale da dire Se mi chiamano Vado E so Se vogliano che Napoli giochi Più vicino a quello Dell'anno scorso Faccio lo stesso modulo Perché è un modulo Che mi piace È chiaro Come vi dicevo Ai tempi Facevo altre cose Devo avere Giocatori giusti Per fare un determinato Modulo Punto È lì Casomai Che ora bisogna Ragionare per bene È cambiato Anche come giocatori Dall'anno scorso Quelli che ci sono ora Che differenza c'è Come ci hanno studiato Gli avversari Quindi le variabili Nel calcio Sono tantissime Però io Sono convinto Che se ho I giocatori giusti Che mi capiscono Eccetera Eccetera Questo modulo Mi piace tantissimo Come mi piaceva Il 3-4-3 A quei tempi Oltre il 5-2 Storto con Ampsic Quello che volete voi Però ecco Questo volevo Specificare meglio Sono venuto Perché Ho studiato Tanto Il modulo Che ha adottato Il Napoli Perché secondo me Come vi ho detto Era una delle squadre Che faceva Il più bel calcio D'Europa Questo devo dirlo Sinceramente Rimango della stessa idea Se Riesco a avere I giocatori giusti Che interpretano bene Questo ruolo Questo modulo Repubblica Sì eccomi sono qua Ciao buongiorno Buongiorno Cioè questa La risposta è proprio Il problema attuale Del Napoli Quindi bellissimo Ma io dico Nessuno ti dice Che tu non hai la possibilità Di imparare O di pensare oltre Però guarda Non è che ci vuoi un genio Per capire che non sta funzionando Questa tua strategia Caro Walter Non è una questione Di mi piace Non mi piace Ti piace Non sta funzionando Perché non pensi Neppure lontanamente Di cambiare qualcosa Perché a me Non dà fastidio Che non cambi Perché se lui Pensa di avere le ragioni Per non cambiare Ci sta Ma se tu non cambi Per partito preso Perché hai deciso Che questo deve essere Il modulo Perché tu hai visto Il Napoli dell'anno scorso Ma che ragionamento è Motivazione è E' anche vero Che i primi a cambiare Dovrebbero essere Quelli che stanno in cima Perché io già me li vedo E se lui cambia Poi gli fanno la ramanzina Non stiamo più facendo Il calcio più bello D'Europa Quindi Dovrebbero proprio Cambiare un pochino Tutti In modo di pensare Ti aspetti domani Un aiuto Da parte del pubblico Visto insomma Che è una situazione Una partita Anche un po' particolare Perché c'è bisogno Di una vittoria Come dicevi Guardate Qualcuno mi aveva detto Non a fare la conferenza domani Io invece ho detto No io prima di tutto Metto la faccia Perché io sono abituato Chi mi conosce Se vi ricordate Non venivo Quando si vinceva A volte Stavo un po' male Ero stanco Perché quando si vinceva Tutto bene Poteva venire il secondo Poteva venire in più Quando si perdeva Mettevo sempre la faccia Questo è un momento Non si deve nascondere Io non mi nascondo Non mi sono mai nascosto Un momento un po' particolare Per il Napoli E io siccome so Com'è la gente di Napoli Chiedo un piccolo aiuto Domani allo stadio Che questi ragazzi Non io Perché io ormai Ho 23 anni Posso sopportare tutto E poi io non gioco Non vado a un campo I ragazzi Per 95 minuti Come è lo spirito Dei Napoletani Che amano la propria squadra Gli diano una mano Fino al 95esimo Che provino A dargli Qualcosa in più Che gli hanno sempre dato Poi se Alla fine Non saranno contenti È giusto che si fischi Si faccia Quella si deve fare Questo mi sento Di farlo E di dirlo Perché Penso sia la cosa giusta Ma non ho dubbi Che la nostra gente E starà vicino A questi ragazzi Che passano Un momento di difficoltà Questo lo posso dire Tranquillamente È il motivo Per il quale Sono venuto qui Proprio per fare Questo piccolo Grande appello Corriere della sera Mister Sono qui Ma dovrei sentirmi soddisfatto Dopo questa cosa Ma anche perché Comunque quest'anno Ma se ne fa pena Quest'anno se non sbaglio Non è mai capitato Che siamo scesi Sotto i 40 mila spettatori Penso che è proprio L'ultimo dei problemi La spinta del pubblico Quest'anno Lei chiedo L'emergenza Non si ferma Continua Le chiedo Se ci fa un punto Della situazione A livello di condizione Di assenza E poi Se visto questo problema Si attende In tempi rapidi Di un aiuto dal mercato Allora Vi ricordate Quando Ero Allenavo di seguito E l'arte squadra Mi era qui Mi sento larga Ricordate Io 20 anni fa Scusami Erano Lamentino Si lamenta Se non ho sbaglio Un giovedì Sono contento a parlare Vedete Se dico le cose giuste Ecco Ha visto Ora si lamenta Cioè Se io dico Guardate ragazzi Fate il conto Da quando sono arrivato io Forse domani Mancano 6-7 giocatori Che c'erano Nella Rosa Efficienti a Bergamo Ma questo Non vuol dire Che quelli Che mandano in campo Non siano all'altezza Di fare Intanto un gioco diverso Da quello del Torino Che si rigiochi bene Come si è fatto In tante partite E che questa volta Si cerchi Anche un po' più Con cattiveria Il risultato Questo Mi interessa a me E che i ragazzi Con l'aiuto Del pubblico Pazzesco E c'è a Napoli Abbiano Quei giocatori In più Che gli dia una mano Per superare L'avversario Per me Io sono focalizzato In questo Non pensa d'altro È chiaro Che i giocatori Se siamo numericamente Pochi E ci sono giocatori Che erano importanti E non ci sono E ora Io che devo dire Queste considerazioni Le potete fare Tranquillamente voi Io devo pensare Che quelli che ho a disposizione Gli metta Una carica addosso Come una molla E le faccia andare a mille Per poter superare Questo ostacolo Punto Radio Chris Chris Mister buongiorno Non permettere le mani avanti Buongiorno Questo è un gennaio particolare Perché c'è la Coppa d'Africa Gli infortunati Il Napoli Che non sta attraversando Un momento brillante Il quarto posto È lontano A cinque punti Comunque Perché io non guardo più Ve lo giuro Non guardo più Perché mi sono nervosito Però Mi hanno detto Che stiamo ancora a cinque punti In diciannove partite Non si sa mai Poi Mister Ci sono delle cose Anche a No Mazzar Per di tempo Perché Non serve a niente Il giornalista Deve dire questa frase Abbastanza nome L'abbiamo visto Alcuni agenti Che litigano Tra di loro Di giocatori Che fanno parte Della Sista Rosa Ci sono tante difficoltà C'è anche la Supercoppa Che è comunque Un obiettivo importante Della società Il ritiro Il lavoro di Mazzarri In questo gennaio In questo periodo Quanto è diverso E come si fa A entrare nella testa Dei giocatori In un momento Di difficoltà Così La cosa più Credo difficile È tanto i moduli I moduli Mi diverto A me Ora Dico una cosa Che sembra Strana Io ho goduto A stare in ritiro Perché almeno Potevo vederli Potevo dirgli Lo potevo fare Perché quando te Fai l'allenatore Fai una partita Poi è capitato Io nel momento In cui sono venuto Erano tutti big match Tutti uno dietro Un altro Giochi ogni tre giorni Vai ripetiamolo Ancora un'altra Io l'ho detto Perché diventava una scusa Questa cosa Io l'ho detto Devi fare tutta la lavagna Sto male Ora io mi sento Già un po' meglio Perché l'ho visto sul campo Gli ho detto Mi ripete la domanda Perché sono andato un po' fuori Nelle ultime partite Le sentiva Solo in videocamera Perché ci tenevo a dire Questa cosa Con tutte queste difficoltà Anche Situazioni proprio reali Tra infortuni Allercato Che incombra Qualcuno che vuole andare via Si parlano addosso Ora mi è ritornato Gli agenti Io tendo Anche se sono agenti Del calciatore tizio Io tendo a parlare Con il giocatore Dicendo Al di fuori Ci pensano gli altri Voi cosa avete Il dovere di fare Quando entrate Al cancello di Castelvortunno Pensate Allenarvi bene Poi gli altri Tanto ormai Siamo in mano A procuratori Siamo in mano A chi gestisce Questi ragazzi Loro voi avete Solo il dovere Di staccare tutto Entrate qui dentro La testa dei compagni Non conta Conta la maglia Chi gioca a fianco a te Lo devi aiutare Perché gioca nel Napoli Conta il Napoli Tutto il resto A me non me ne frega nulla Quindi appena entro Da quel cancello A qua A quell'altro Quando tornerà là Dirò le stesse cose Quell'altro Quell'altro Uno a casa Quando uscite fuori Andate a casa Dalle otto in poi Se mi chiamano procuratori Gli rispondete Ma dovete Il vostro dovere È fare bene I calciatori E dare il massimo Per la maglia Questo È quello che io faccio Tutti i giorni Quindi il resto Mi isolo Io non mi interessa E le succede fuori Cronache di Napoli Buongiorno Buongiorno Bella questa conferenza Però mi sta piacere Ma mamma mia Hai detto prima Alla vigilia della partita Di Torino Che per esempio Mazzocchi Che era il nuovo acquisto Sarebbe stato utile Anche per dare una sveglia A qualche Qualche big Qualche titolare Che magari Era troppo sveglio Era forse No no È purissimo Troppo sveglio La prossima volta No Non scherzo C'è da chiamare la capa Che resta Che bello Va bene No ma Al di là Al di là Della questione Mazzocchi È plausibile pensare Che per questa partita Molto delicata Con la Salernitana Si vedrà Anche un Napoli Diverso Negli uomini Con Con qualche 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 giocatore Che possa portare Anche una scintilla Di garra Alla squadra È possibile Ma ripigliamo Tra virgolette Cioè Andiamo nella primavera Perché non ci sono alternative Ma lei guardi bene Quelli che sono a disposizione Non è che c'ho tantissime scelte Cioè qualcosa c'è Effettivamente Ve lo vedrete Quando inizia la partita Solo Lindstrom Solo Lindstrom Io vorrei Che intanto Lo spirito Si vedesse Diverso Soprattutto Torino Perché La partita di Torino Ce l'ha ancora qua dentro Non mi ha dato Poi Io mi scuso con i ragazzi Perché in questi momenti L'allenatore Se fa Io Credo Aveva avuto ragione Ma purtroppo Purtroppo potevo Non farmi espellere Perché in questo momento Era giusto E ci fossi io Lì con loro Nei momenti difficili Ma tu sei cambiato Non fa niente Non ti devi Scusa Non ti devi Giustificare Purtroppo Era un tribuna Nel gabbiotto Io Diventavo Matto Ecco Perché Non ho potuto Nemmeno Dare qualcosina Poi Una cosa importante Che ve lo dico Lei ha fatto il discorso Di Mazzocchi Ora io vado lì Perché è già la seconda Vota che rimaniamo In dieci Nel calcio moderno Un giocatore In meno Una squadra Che lotta Ma su calcio moderno Sta parola Perché nel passato Se rimaniamo in dieci Ah bello Non siamo in dieci Ah buono Vai vai di un altro Vai Rimaniamo in otto In sette Contro la prima In classifica Cambia tutto Il tema di gara Non è più come prima In dieci Si poteva giocare Quindi Ora mi raccomando Ma che cosa Appena senti Lasciamo stare Un fanino Un fanino Mi raccomanderò Che qualsiasi cosa Succeda Domani E da qui Alla fine del campionato Non voglio più vedere Cosse che vadano Oltre il regolamento Per poter poi Rimanere in dieci Noi Casomai devono rimanere In dieci gli altri Se ci provocano Se ci va Bisogna avere la forza Di pensare Solo a giocare Perché noi siamo il Napoli Si deve tornare A essere la squadra Che gioca meglio Che impone il suo gioco Sul campo Non con altre cose Perché nel calcio Ci sono le regole Non si fa la box Anche se io voglio far vedere I tifosi che ci tengo Lo devo me Nel contesto di una partita Di calcio No che a Roma Siamo rimasti in dieci E sono convinto Che queste due partite Non fossimo rimasti in dieci Non so come sarebbero finiti Quindi questi errori Basta Questo è una cosa E mi raccomanderò Anche già da domani Perché le squadre Che vengono Per fare risultato Con Napoli E fanno Si attaccano a tutto Ci fanno innervosire E faccio l'ultimo appello Anche agli arbitri Che i giocatori Di talento Che giocano a calcio Quanti appelli abbiamo fatto In questa conferenza Abbiamo avuto il registro Di classe Hanno tutelati Che siano i nostri Che siano gli altri Però questo ci deve No ma sono d'accordo Però già l'hai detto Ho colto l'occasione Per dire Sia ai nostri ragazzi Che non devono più reagire Non devono fare cose estreme E devono però Essere anche gli arbitri A tutelare I giocatori Che cercano Di giocare al calcio Per bene Ok Il mattino Sì torno sul ritiro Ha fatto fatica A spiegare Ha fatto fatica A spiegare Alla squadra Che non si trattava Di un ritiro punitivo Lei ha detto Io ho goduto Nel dare spiegazioni Ho la percezione Della squadra Che sia stato Un ritiro punitivo E la seconda Che le chiedo Se è possibile Si avverte ancora Una fiducia incondizionata Da parte Del presidente De Laurenti A parte il fatto Che parlo un attimo Prima io Che questa è L'invenzione Più grande Dei giornalisti Ma da sempre C'è proprio La parola Ritiro punitivo C'è questa frase Non sta proprio bene C'è uno Casalmente un ritiro Lo fa per ricucire No? Per punire I giocatori C'è proprio La frase Ritiro punitivo Non ha proprio Senso di esistere Tu quando mandi La scuola E il ritiro In un momento Che stai andando male Lo fai per Ricominciare Per ricucire Per riunire Il gruppo No? Per punirli Che metti sotto Fatica Con la frusta C'è un'altra cosa Ma proprio Quindi questa domanda È ridicola Perché è un'invenzione Tutta dei giornali Il ritiro punitivo Guardi 23 anni Mi ha interessato Io Finché so qui Soprattutto a Napoli Darò l'anima Per fede di Motivare i miei giocatori A far bene E a vincere Io In quei casi In questi Da quando alleno Io penso Che Mazzardi Con la squadra Vuole vincere Questo mi interessa E farò di tutto Per fare questo Quando non vinco Mi vedete Che sono anche uno Che sta male Per giorni e giorni Quindi Non mi pongo Il problema Che lei mi ha detto Di sicuro Poi qual era L'altra domanda Il ritiro punitivo Il ritiro punitivo Signore Come si chiama Lei Che per forza Come si chiama Lei Ma come c'è Non borgia Magari ci riconosciamo Ma di faccia Tanti anni Sono Tormina Ma non finisci Una frase Non finisce le frasi Cioè Tanti anni Dico Toscano Secondo me Punitivo Quando una squadra Che è il Napoli Che aveva fatto Una buona gara Col Monza E per sfortuna Secondo me Potevamo vincere Anche all'ultimo minuto Perché ce lo meritavamo Va a Torino E fa una gara Che non rientra Ne Se sono giocatori Professionisti Sono i primi A essere incavolati Se C'è un nuovo allenatore Che ha potuto Lavorare poco Con loro Loro lo sanno Che io volevo fare questo Non si è potuto fare Se capita Un'occasione Dopo Una partita Così brutta Di andare In ritiro Dovrebbero essere contenti Come me Come tutti Quindi Per rispetto Dei nostri tifosi Per rispetto Di una piazza importante Devono prendere Coscienza Che devono Rendere E siccome Sono persone Che stanno bene Sono messi Nella condizione A meno che Io e Pondelli Come forse è successo E non assumo la responsabilità Abbiamo caricato troppo E non erano brillanti Questo ci sta E la colpa La colpa è mia Ma anche loro Devono sapere Che il Napoli Che ha vinto Lo scudetto È in una posizione Che non Non è consona Quindi È vero che è responsabile L'allenatore È vero che è responsabile La società Ma è vero Che devono Anche loro Rendersi conto E devono rendere Di più Quindi è una presa Di coscienza Di tutti Non c'è nulla Di male Una volta Ogni tanto Può capitare C'era un nuovo Allenatore È giusto Che si lavori di più Che non si è potuto Lavorare Da quando sono arrivato Punto Non è un dramma È chiaro Tutti vogliono Stare con le famiglie Per me i ritiri In generale Non mi piacciono Per prima a me Non li reputo Nemmeno giusti Nel 2024 Ci sono Dei casi Che vanno fatti Dei sacrifici Tutti Per il rispetto Dei tifosi E per la piazza Canale 8 Il corso Non l'ha mai capito L'idea Secondo cui Il ritiro Oggigiorno È molto peggio Di ieri Quando in realtà Ieri Al limite Un ritiro Era veramente Sfiancante Perché giustamente Non c'erano mezzi Per tenerti in contatto Con i tuoi cari Se io presidente Mandavo la squadra Il ritiro Tu la tua famiglia Non la vedevi Per una settimana Intera Per davvero Non la sentivi Neppure Forse forse Ti davo L'opportunità Di sentire Al telefono Avanti A tutta la pubblica Piazza Col telefono Quello lì Di casa Che avevano Le strutture Cioè Oggi Uno va in ritiro Ma tu Tutto sommato Fai videochiamati Con tua moglie Senti Tua figlia Al telefono Ma che vuoi Dicere Oggi Il ritiro Adesso Adesso Hanno pure più senso Perché siccome Gli allenatori Allenano di meno Per tutte queste partite Anche infrasettimanali Ritire una possibilità Per riallenare Quindi è proprio Adesso È fondamentale Buongiorno mister Davanti a lei Buongiorno Buongiorno Ascolti Lei prima Sottolineando Il grande studio Che aveva dedicato Al Napoli Di Spalletti Ha però aggiunto C'è bisogno Di calciatori Che ti consentano Di fare Determinate cose E questo Mi sembra Possa essere Un riferimento All'unico calciatore Di fatto che manca Dall'anno scorso Cioè Kim Che magari Permetteva anche Di avere un atteggiamento Tattico Da parte della scuola Diverso Con una difesa più alta Grazie alla velocità Di questo difensore Secondo lei Alla luce appunto Di quello che stiamo vedendo Dei gol Che il Napoli prende Ma anche di una Mi sembra almeno Per quello che mi riguarda Una poca reattività Da parte della difesa Al di là di quello Che potrebbe arrivare Col mercato Si possiamo aspettare Qualcosa di diverso Domani Di modulo No proprio dell'utilizzo Di uomini Magari Non lo so Di Lorenzo Centrale Non me le dica Queste cose Perché tanto Non me le dico oggi Cioè No mi calbava Che le ho chiesto Perché volevo rispondere Ma non ho capito Cosa vuol sapere Volevo sapere se Non avendo un calciatore Come Kim Il Napoli è anche Un po' costretto A giocare più basso Che cosa si aspetta Allora Quando io intendo I giocatori giusti Si mi scusi Ho capito Di Kim È evidente Lo sanno tutti Era velocissimo Nei momenti di difficoltà Magari succedeva un errore Da parte della squadra Un contropiede Partiva lui Aveva quella forza Che poteva Ovviare a un gol preso Questo è evidente Basta riguardare le partite Se fai un calcio Così propositivo Così alto Devi pensare Che ogni tanto Fa un errore E se hai 40 metri 45 metri Forse di più Alle spalle Devi avere La forza di recuperare Le caratteristiche E dei giocatori difensori E dei giocatori difensori È importante Questo non è che lo nascondo Però è anche vero Le faccio un esempio Per esempio Io lo so Perché c'è stato un momento Avevo Questo credo Ormai Tanto è passato Un po' di tempo Doveva andare Mi avevano contattato Per la nazionale messicana Avevo parlato con Lozano Quando è andato via Da Arnav Lozano era un giocatore Quando intendo Che i giocatori Sono cambiati Un bel po' Perché oggi Lei l'ha visto Lo faceva l'anno scorso Si fa a noi Ci sono 5 cambi Ora i titolari Non sono più 11 Nel calcio moderno Se voi vedete Le partite Noi stessi L'abbiamo vinte a Bergamo Con il cambio di Elmas Per dire I 5 che entrano Quasi sempre Sono titolari Come gli 11 E Lozano Era un giocatore importante In questa rosa D'Ambele Oro mi ricordo Questi sono Perché i ricambi Sono Elmas Per dire Non giocava titolare Ma era un co-titolare Se cominciano a mancare tanti Anche nel cambio Quando una squadra Ti faccio un esempio Metti caso Per un momento Non è Fisicamente Al 100% L'allenatore Che fa Appena può Fa un tempo uno Fa un tempo un altro Dice Dai tutto il primo tempo Non ce la fai A fare 90 minuti Quello forte Come è lui Se non c'ho quello forte Come è lui Secondo tempo Non ce l'hai Allora fai giocare Di più quello Quello è stanco Cioè Ora i problemi Sono tanti Per un allenatore Ora non è che voglio stare qui Sono venuto apposta Siccome ho visto Giustamente Il fermento della pagazza Dopo questo Ultimo risultato negativo Ho detto Ora vado Metto la faccia E se posso Da esperto Un pochino esperto Me lo concedete Sono Non ho 23 anni Che alleno Un pochino di calcio Lo conosco Voglio dare un po' di serenità Anche la gente Che ci tiene davvero E so che ci soffrite Che ci soffrono Allora vengo Infatti ho sbagliato Purtroppo Essere squalificato Sarebbe stato meglio Fosse andato subito Dopo la partita A parlare Perché credo Che qui a Napoli Mi vogliano ancora bene Mi stimano E un pochino Di credibilità Ce l'ho Per poter parlare Quindi Se permette Queste cose Ogni tanto Vanno dette alla gente Non solo Fucilate Martellamenti Tutto negativo Tutto negativo Cerchiamo di vedere Anche in un momento Negativo Quello che Quello che ci può essere Di positivo Da ora in poi Almeno Ultima Info Napoli Comunque Sul discorso Dei cambi Cioè Sono d'accordissimo Mi ha spiegato bene Cosa serve Per una panchina Ampia E Sul discorso di Kim Si può essere d'accordo In parte Perché i suoi gol Li subivamo anche con Kim Solo che le partite Finivano 2-1 per noi E non 1-0 Per l'avversario Quindi La differenza È minima Ma c'è E Non è solo In difesa Quattro Mister buongiorno Buongiorno Le volevo chiedere Sempre per quanto riguarda La difesa Ma Non andiamo Nello specifico Però Un'analisi Della stagione in corso Prima del sorrive Anche dopo Il Napoli ha subito Molti gol di testa Da specialisti Come Giroux Bellingham Ma anche Giroux Magari da giocatori Meno strutturati No mi riferisco No mi riferisco a Luckman Gatti Buongiorno La stessa Settimana scorsa Luckman Ma era il più specialista Buongiorno Che Bellingham No mi riferisco Luke Luckman Ok Non strutturato Ma gli altri Gatti Buongiorno Bellingham Riprendo un po' La frase del suo Di Spalletti Che ha detto Ostigard È il miglior difensore Che abbiamo Sui colpi di testa Ci sarà spazio Anche per lui Non dico domani Ma in generale Come tipo Visto che è l'unico Giocatore di Rosat Pensi che ha fatto Due gol Di testa Ostigard Segnato quest'anno Corriere al Madrid E a Lecce Quindi Ma non ha visto Le partite di quest'anno Mazzarri Scusatelo Quello si era fermato All'anno scorso Ostigard È nato Anni due migliori Difensori di quest'anno Solo che Stiamo giocando Con Juan Jesus E Rackman Ovviamente Perché si è infortunato Anche nata Però Ostigard Completamente Scomparso Ci sarà Possibilità Anche per lui Di Farsi vedere Per grinta Per gioco aereo Per sopprire Quello che è stato un problema Non ho preconcetti Su nessun giocatore Della Rosa Se faccio giocare Lei deve sapere Penso che Medesimi In un allenatore Quando fai gli undici Ce n'hai i quindici Sedici Da scegliere Fai più o meno Dici oggi Questa partita Lui che caratteristica Ha Quell'altra La può far meglio Questa La può far meglio Alla fine Fai queste considerazioni Se ho fatto giocare Quelle che ho fatto giocare Perché in questo momento Le reputavo più adatti Adatti Non migliori Quindi Non c'è problemi Se penso che Dovesse giocare Ostica Ostica Giocò con l'Inter Lascia fuori Jesus Fece anche bene La squadra Il primo tempo Poi il secondo tempo Anche lui Come tutti Quando prendi tre gol Anche se non li meriti E si va nel carderone E si va nel carderone tutti Jesus era fuori Con l'Inter Giocava ostica Poi Un conto Se per esempio Si parla di colpi di testa Di essere bravi nel gioco aereo Un conto è offensivo Un conto è difensivo Le faccio un esempio Se l'Apoli piglia Tanti gol In calci d'angolo Per un difensore È molto più importante Non prendere gol Nei calci d'angoli E nei calci d'angoli O marchi a uomo O marchi a zona Ma nella zona C'è sempre un uomo Quindi Bisogna stare attenti Se sei un difensore Devi essere bravo A non far far gol Agli altri di testa Devi marcare Devi stargli vicino Un conto è vai a saltare Fai gol come un attaccante Sei libero Vai a cercare la palla Non so se mi spiego Sono due cose diverse Fare gol Per un No ma Ti sei spiegato benissimo Ma Stigard è fortissimo Anche nell'altra cosa Cioè Non è solo forte Prendere di testa Per segnare Che sia dimostrazione Che non lo conosce proprio Aveva Stigard Però bellissimo Ma figura È un difensore Che va a saltare E non far prendere gol Alla squadra Quando calciano gli angoli O le punizioni laterali Sì no Ma Faccio un esempio Se uno è bravissimo A saltare di testa Ma guarda solo la palla Perché la palla fa così Non ha una linea Si fa così Allora che sta dicendo E guarda la palla C'è l'uomo che ti sfila dietro Prendi gol Lo stesso Anche se sei forte di testa Ma ha saputo marcare Quando siamo in difesa Ok Se invece lo manda a fare gol Se è più bravo di un attaccante Va lì e fa gol È diverso Non so se mi spiego Sì ma se mi metti a paragone Osticard One Jesus One Jesus Perde su tutta la linea In tutti i fondamentali Dei duelli aerei Sia offensivi Che difensivi Quindi Ha senso quello che ha detto Ma non Su Osticard Cioè Bellissimo Allora che amarezza Grazie a tutti Grazie a tutti Perfetto Grazie a tutti Vabbè Mi c'è un giro La prossima volta Ma chi se come ho fatto Allora Lindstrom Sto ancora capendo Cosa Cosa dobbiamo fare Ma Cioè ci rendiamo conto Ci rendiamo conto Che per caratteristiche Tu Lindstrom Per quale motivo Non lo stai facendo giocare Che per carità di Dio Tu c'hai comunque Altri giocatori Che stai utilizzando Con coraggio Blah 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 Ma Lindstrom Perché non lo fa giocare Perché non lo conosce Perché Conosce di più Zerbin Conosce di più Gaetano E Lindstrom Non lo fa giocare Perché non lo riesce Cioè lui non sa nemmeno Chi è E chi è A quanto pare Che altrimenti Non è possibile Perché se parliamo Di caratteristiche Lindstrom Dovrebbe giocare Per forza Almeno entrando Alla panchina Ma non come ultimo cambio Come primo cambio Prima ha fatto il discorso Di Lozano E sono d'accordissimo Lozano fondamentale Sia da titolare Che da subentrato Insieme a Politano Facevano Una batteria fortissima Ma Lindstrom Può arrivare A livelli di Lozano Ci può arrivare L'hai pagato 30 milioni E non lo fai giocare Per quale motivo Perché Perché non lo conosci Come Sesso discorso Per ostica Identica Non fatti chiedere La pure Lo disse pure Io mi sono fatto dire Lui dove giocava Giocava a destra Giocava a centrale In che senso Te lo sei fatto dire Però vabbè Che situazione Ragazzi Fateci sapere Cosa ne pensate voi Con un commento Lasciate un like Guardatevi il prepartita Che abbiamo fatto noi Di Napoli Salernitano Forza Napoli Sembra Giocava